Assessore Vito, buona notizia per gli automobilisti della Friuli Venezia Giulia, prorogato fino al 31 marzo del prossimo anno il contributo per l'acquisto di carburanti. Sì, siamo in linea con il lavoro fatto finora, il tema della benzina è un tema importante, la regione dà continuità a questo intervento e proporà anche in finanziaria gli importi adeguati che ci permetteranno, almeno come l'altro anno, di iniziare l'anno tranquillamente, arrivando perlomeno fino alla fase dell'assestamento, quindi dell'estate prossima. La delibera di oggi non aggiunge nulla di nuovo al metodo consolidato fino adesso, anche con le percentuali di erogazione del contributo, esattamente come finora. Gli importi restano quelli che tutti gli automobilisti conoscono. Conoscono, esatto, diamo continuità a questa cosa e quindi in questo senso penso sia importante dare la notizia. Un momento di pausa. Assessore Vito, la Giunta regionale ha dato il via libera formale alla firma di un protocollo d'intesa con il Comune di Trieste e con alcuni operatori privati che porterà alla soluzione di un problema molto sentito in provincia di Trieste, in particolare nell'abitato di Conconello, con la rimozione delle antenne che producono, è stato verificato, un inquinamento elettromagnetico. Sì, allora questo è un risultato veramente di grande soddisfazione. La Regione ha avuto la regia di questa vicenda e diciamo è riuscita veramente con uno sforzo anche proprio di determinazione di arrivare fino in fondo. La collaborazione con il Comune di Trieste è chiaramente poi stata determinante, visto che è uno dei soggetti appunto chiaramente coinvolti, interessati, visto che stiamo parlando di un'area nel Comune di Trieste che soffriva di questa situazione veramente ormai protratta da tantissimi anni, sembrava quasi una vicenda che non poteva trovare soluzione. E invece la firma di questo protocollo, ora nella parte tecnica, ma insomma oggi la Giunta mi ha dato mandato di arrivare proprio alla firma dell'impegno che anche il Comune di Trieste immagino a breve porterà in giunta, è necessaria per dare il via a questa operazione di delocalizzazione degli impianti. Quindi stiamo parlando di questi impianti, di questi tralicci per la radiodiffusione, onde radio e televisive che appunto ha un termine di inquinamento elettromagnetico conclamato. Dove li metterete? Allora la località, ecco la cosa molto importante è che in questo protocollo si individua la tempistica, si individua la località che è il Monte Belvedere e l'indicazione è che lì si potranno costruire al massimo due nuovi impianti. Comunque insomma lontano dai centri abitati, questo è l'elemento fondamentale. Questa è stata la priorità, dico un'altra cosa molto importante, visto che in questa vicenda diciamo si è avviato proprio un percorso di politiche attive ambientali che sull'argomento oggettivamente mancavano. Quindi abbiamo incontrato i comitati, si è lavorato tantissimo con i funzionari, quindi veramente una spinta forte anche della politica per arrivare alla soluzione di questo problema. Però allo stesso tempo abbiamo portato anche in giunta la VAS, quindi l'avvio della procedura amministrativa per avere anche nella nostra regione un piano di risanamento degli impianti radioelettrici. C'è già questa bozza di documento, ora ci saranno i momenti di consultazione, come ovvio sempre in questi strumenti di pianificazione, però veramente io credo che sia un passo avanti molto significativo nel lavoro che stiamo facendo.